Il sostegno e la promozione sociale possono andare a braccetto con il marketing turistico. È quello che abbiamo fatto noi tramite la nostra mozione, che si chiama mozione sulle bandiere Lilla, che è stata già promossa l'anno scorso in Consiglio Comunale Rosignano e che è stata approvata in Consiglio regionale soltanto due giorni fa. Questo progetto individua i parametri in base ai quali possono essere certificate le località balneari adeguatamente attrezzate per favorire l'accesso ai disabili a tutte le spiagge. Questa mozione è stata approvata insieme ad un'altra mozione parallela che abbiamo presentato che spinge la regione toscana a far sì che in tutti i comuni, in tutte le spiagge libere della Toscana possa essere garantito l'accesso fino al mare a tutti i disabili con dell'istrumentazione e una rimozione delle barriere architettoniche adeguata. Quindi due emozioni che favoriscono la disabilità e soprattutto il loro accesso al turismo in tutte le spiagge della Toscana.